Pronti? Ok, pronti? Motore? Motore partito? 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 Azione! Allora mettiamo un 6 qua e un 4 qua, non so se può, uno fisso abbiamo detto, uno fisso, la seconda è di movimento, fissa, perché sarà il secondo tempo. Il giorno si rinnova, ti prego perdonami, ti prego perdonami, ti prego perdonami se non ho più la fede in te. Ti faccio presente che è stato difficile abituarsi ad una vita sola e senza di te. Mi sveglio spesso, sai, pieno di pensieri, non sono più sereno. Bene, il sagallo a casa ne ho 200 di cinghie e un nascolo. E' una vita semplice che mi garantivi. Ciao, ciao. Sono vivo, sono vivo, sono plebe. Ci puoi. Plebe. Ehi, piacere vederlo. Ciao, oggi. Vedi i giorni da soli. Ieri, ti sei vestito bene, sono ieri. No, 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 no. Che idea è quella del video? Allora, l'idea del video è una locomotiva, quindi abbiamo preso un po' spunto dal futurismo e abbiamo rappresentato, diciamo, il movimento del futurismo con una locomotiva, cioè quindi velocità e meccanica, però interpretata alla Vasco, quindi Vasco è la forza motrice di questa locomotiva, è all'interno della caldaia, insieme a una benda essenziale, quindi attraversano i paesaggi, le situazioni, attraversano tutto quello che è detto nel testo, quindi è un movimento verso, ecco, questo è il senso del video. La prima ragione che la cosa più semplice sarebbe quella di non essere mai nati, vuoi in generale vita, arrivano impetuosi, ed è un miracolo che ogni giorno si rinnovano, perché voglio usare il loro dungaggio aulico, anche la stricata dei promedi, per l'aromaggio, non fai, ma non certo bisogna riuscire a difendersi dalle nostre passioni, capito, tenere a freno le nostre emozioni e non indurci in tentazioni. le nostre emozioni inter scale… …eì, e' nanti? …che.. …eì… …eì, ah, beh sì… …eì, ah, sì eh… …eì.. …eì, ah, 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 ah… Perché io questa canzone qui sono sei mesi che non ho avuto di cantare e l'avevo cantata tutti i giorni. Sarà difficile non fare degli errori. C'è anche un po', l'hanno respirato il profetto. Sì, questo è il modo giusto, guarda, bellissimo. Sarei stato fermo alla fine. Loro non mi fanno fuori. Ok. Grazie, grazie, grazie. Com'era, com'era? Si fa bene, va bene. Poi quando si fa bene il mio figlio se c'è a cavallo. Sono diventato un sexy monstre. Abituarsi ad un marito. Sola, che senso di te. Ok. Tuuuu.